In qualità di candidato sindaco, cosa pensa di fare per valorizzare il lavoro che la nostra associazione svolge sul territorio cittadino 365 giorni l'anno? Innanzitutto io sono uno dei tesserati, dei innumerevoli tesserati di uno dei circoli. Io apprezzo il lavoro che è fatto, un lavoro che è fatto in tutta la città, ma spesso in periferie, in luoghi in cui questa presenza è fondamentale per aggregare, specie per aggregare i giovani, quindi penso che abbia un grande valore. Io credo che il Comune debba impostare la sua politica in una logica di sussidiarietà, cioè riconoscere le realtà che già operano su un territorio, che hanno un valore pubblico, che fanno una funzione pubblica, anche se sono attività messe in piedi da singoli cittadini o da associazioni, è del caso dei vari circoli che si richiamano alla realtà Arci e penso che dobbiamo fare tutto il possibile dialogando insieme per capire come potenziare queste attività, che hanno un valore perché aggregano, danno prospettive di stare insieme sane, sono un modo per far crescere le persone, per favorire anche una cultura che deve essere fatta non solo in centro ma nelle periferie. Quale strumento pensa di mettere in campo per mettere in relazione le associazioni che lavorano sul territorio cittadino quotidianamente con le istituzioni? Io credo che il Sindaco, che la città debba risvegliare tutte le energie che ci sono in città e metterle a lavorare insieme. Io credo che il Sindaco debba essere regista di una grande squadra che è fatta non solo dai dipendenti pubblici o delle strutture pubbliche, è fatta da tante realtà che operano su un territorio. Allora noi abbiamo il problema di metterle in rete, io vorrei che tutte le realtà lavorassero insieme. Faccio un esempio, noi abbiamo un emergenzio credo, quello della periferia nord della città, la zona dove si lamenta una maggior assenza negli ultimi anni dell'amministrazione. Vogliamo essere presenti lì? Ok, ma non è solo questione di rifinanziare, di intervenire sull'hardware, sulle strade, su rifare i mercati, dobbiamo capire con gli operatori del settore che offerta culturale possiamo fare, che offerta aggregativa possiamo dare ai giovani, come possiamo aiutare la gente di quel territorio a vivere complessivamente meglio, che non è data solo dalle infrastrutture, ma è data complessivamente dall'offerta di vita, di cultura, di aggregazione che portiamo in quella parte di città. Quindi io penso che dobbiamo mettere a lavorare insieme tutte le intelligenze per capire dove si vuole andare e come ciascuna delle realtà coinvolte possa contribuire al raggiungimento di quell'obiettivo. Io credo che il Comune da solo non ce la possa fare, che c'è bisogno di tutta la realtà che già opera in questa città e che è ricca, parlo anche delle realtà aggregative, culturali, sociali, ce ne sono molte e occorre mettere in rete. Abbiamo bisogno di tutte le energie, non solo di quelle che può mettere in campo da sola l'amministrazione. Come pensa di dare sostegno a quelle organizzazioni laiche che operano sul territorio esattamente come le organizzazioni cattoliche? Io non credo che si debba fare una guerra di religione o discriminare le realtà o trattare diversamente in base al fatto che abbiano una vocazione di una religione o di un'altra, che siano cattoliche, valdesi, islamiche o che siano realtà laiche che fanno riferimento a partiti di un colore o di un altro. Io credo che il sindaco di una città deve essere un sindaco di tutti, in grado di vedere le varie realtà, le varie associazioni per quello che fanno e per quello che danno alla comunità, a prescindere dalla matrice che le ha generate o dai valori che le animano. Io penso che il sindaco deve trattare tutti con lo stesso principio, il principio di equità e giudicare le realtà per quello che fanno, non per le radici che hanno, quindi questo lo dico e lo credo, un conto sono i valori che ciascuna ha, che io ho e che come sindaco manterrò, sono i miei valori, un conto è la funzione di amministratore della città, non amministri soldi tuoi e non eserciti poteri tuoi, eserciti poteri e soldi che sono nelle tue mani per un mandato che hai avuto dagli lettori e deve rispondere all'interesse di tutti, quindi non amo questa distinzione cattolico, laico, di centro, di sinistra, di destra, musulmano o cattolico, penso si deve guardare tutte le realtà con gli stessi occhi e rispettandoli per quello che fanno. Come intende attivarsi per tutelare quelle associazioni che sul territorio danno sostegno all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro? Anche qui credo che ci si debba sedere insieme per capire cosa l'amministrazione può fare per sostenere tante associazioni che rappresentano anche un'opportunità occupazionale per tanti giovani e non solo e che hanno una vocazione ad aiutare la città a crescere dal punto di vista culturale, dal punto di vista aggregativo, io penso che dobbiamo sederci insieme e decidere quello che l'amministrazione può fare, capire cosa l'amministrazione può fare, so che le regole e le norme impongono vincoli burocratici sempre maggiori, perché non immaginare che l'amministrazione favorisca la nascita di uno sportello, di un servizio comune per aiutare le imprese o qualcosa che sgravi le associazioni, specie quelle più piccole e meno strutturate, in macro associazioni da una serie di adempimenti, è una cosa che si può fare, è una cosa che si può fare a basso costo, penso che l'obiettivo sia quello di salvaguardare questo patrimonio di ricchezza che abbiamo nelle città, rappresentato dalle associazioni che operano sul territorio, dalle tante forme di volontariato che ci sono, c'è una società civile che da sola si organizza fa tanto per la città, condividiamo un obiettivo, quello di salvaguardare e potenziare questa attività, sì, le norme nazionali poste in questi ultimi anni ci aiutano? No, vanno in senso diverso, rendono più pesante la vita, cioè ancora più gravi in pendenza di una crisi economica forte, l'amministrazione può fare delle cose, può rendere meno gravosi questi adempimenti, può aiutare tecnicamente a superarli? Penso di sì, valutiamo quello che l'amministrazione può fare sul piano pratico e facciamolo. Come intende affrontare il tema dell'inclusione sociale per i rifugiati, soprattutto visto l'attuale periodo di grande emergenza? Quali pensa che debbano essere gli obiettivi da raggiungere al termine di questi percorsi di inclusione? Io anche in ragione dei valori che ho ritengo che tutte le persone debbano avere delle opportunità, possibilmente pare opportunità di giocarsi la propria vita e a me colpisce, ha colpito quando sono andato a visitare il campo nomadi di Lungostura Lazio e vedere quei bambini che giocavano nel fango al freddo e mi sono detto certo che come è strana la vita, se nasci da una parte di Lungostura hai una vita con certe opportunità, se nasci dall'altra il mondo cambia radicalmente. Io penso che un mondo giusto, e questo sia uno dei motivi per cui io sto nel centro-sinistra, un mondo giusto dovrebbe dare a tutti le stesse possibilità di giocarsi della propria vita a prescindere dal mondo in cui nascono. Sappiamo che non è così, io penso che la pubblica amministrazione debba attendere a questo fine, un sindaco però deve anche essere un manager che lavora con le risorse che ha, che sa che servono per perseguire determinati obiettivi. Il Comune e il Sistema Torino non può rispondere a tutti i bisogni, se rispondesse a tutti, qui verrebbero tutti a cercare risposte che non danno in altri comuni. Allora io credo che ci voglia un grande patto nazionale, in questo paese dobbiamo decidere rispetto ai problemi dei nomadi, ai problemi dei rifugiati, quanta parte di questo problema questo paese si incarica di risolvere e quanta parte lo fanno i paesi dell'Unione Europea. Dentro quello che fa l'Italia questo onere, perché onerosa questa cosa, va ripartita tra tutte le amministrazioni. Torino deve fare un pezzo, quello che è giusto in base a questa ripartizione e lo deve fare con grande passione, con grande amore, mi viene da dirvelo su queste persone. Di più non possiamo promettere, perché prometteremo illusioni e soprattutto faremo delle cose che non possiamo fare, specie in un momento in cui la spinta a volte è quella di ridurre il welfare che abbiamo. La mia battaglia sarà quella di non ridurre i servizi alla persona, non ridurre i servizi alle persone, specie più povere che hanno più bisogno del Comune. Per finire le lasciamo uno spazio per dire a tutti i nostri 60.000 soci ciò che desidera. Domenica 27 febbraio i cittadini di Torino hanno una grande opportunità. Per la prima volta nella storia non è la politica dei partiti romani, non è la politica degli apparati a scegliere il candidato sindaco, lo scelgono i cittadini di Torino. Questo è costato fatica, è costata una battaglia politica durissima che dentro il mio partito, dentro il Partito Democratico, il sottoscritto con tanti altri amici hanno fatto. È una grande battaglia e io credo che i cittadini devono essere consapevoli di questo. Chi vincerà il 27 febbraio sarà verosimilmente il sindaco di questa città per i prossimi 10 anni e che io credo che Torino abbia bisogno di un sindaco scelto da questa città, cresciuto in questa città, che conosce questa città, chi ama questa città e che vede in questa sfida coinvolto tutta la sua persona, che si gioca il suo futuro, il suo avvenire insieme a questa città. penso che ci sia una grande opportunità al 27, i torinesi scelgono il loro sindaco e lo scelgono al di là delle imposizioni romane, al di là delle logiche partitiche, al di là dei ragionamenti della vecchia politica. Io mi propongo e voglio essere un sindaco scelto dei cittadini per portare avanti Torino, per chi ama la città, l'ho vissuta, ho costruito in questi anni questa città, mentre altri non c'erano, io c'erano, ho lavorato insieme a Castellani, insieme a Chiamparino per migliorare questa città e penso che questa città abbia in sé i talenti e le energie per andare avanti senza che qualcuno venga a spiegarci cosa dobbiamo fare perché lo dobbiamo fare.